Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Mita e Misteri Red Dead Redemption 2, caso 14, facce negli alberi, luogo in questione è sempre questo di qua, tutti vicini uno dall'altro, i misteri, questo di qua, vicino allo scherzo della balena, e come possiamo notare ci sono delle facce in questi alberi. Perchè non prendere il binoculo? Molto strano che ci siano queste facce negli alberi, potrebbero, diciamo, rifiguere tipo dei possibili indiani, cioè sono dei disegni fatti da cose degli indiani. Se guardate questo di qua è molto molto simile all'indiano comunque. E questo è l'ultimo. Non prendere questo che è molto strano. Sono in totale due, tre, quattro, cinque facce. C'è anche della frase Ho trovato dei volti incisi sulla corteccia di alcuni alberi, chissà se stavano cercando di dirmi qualcosa. Non ricordo se questo è il caso 14 o il caso 13 in ogni caso, questo caso è confermato, questi volti ci sono. Se questo video è piaciuto mi lasciano un mi piace, noi ci vediamo, alla prossima, ciao!